Ti leggo un commento da parte di Rossanno e poi mettiamo un canto, ma questo è interessante perché ci ha inviato la definizione della parola tribolazione, che significa letteralmente separare il grano dalla tizzania. E dice Rossanno, l'origine del tribolare è agricola, etimologicamente affine al trebiare. Il tribulum era infatti un attrezzo agricolo, una lastra di pietra con un lato reso tagliente che veniva premuta e trascinata sulle spiaghe dei cereali per separarne i grani dalla paglia. Si chiamava tribulum. Vista l'azione compiuta dal tribulum, non stupisce che il tribulare abbia acquisito i significati di calcare, opprimere, affliggere. Tribulare significa calcare, opprimere, affliggere. Questa è la tribulazione. L'anticristo che calpesterà o opprimerà, affliggerà la chiesa, oltre all'esodo del mondo ovviamente. Bene, grazie. Grazie, ottima informazione caro fratello. In altre parole, la tribulazione è lo strumento di Dio per separare il buon grano di Dio. Io ho messo una foto su questo, sulla radio, e ci ho messo anche una scrittura. Ecco. Sì, è la scrittura di Ezechiele 38, 2 e 4. Sì, cosa che dice? Dice, figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Meshek e di Tubal, profetizza contro di lui. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada. Ezechiele 38, 2 e 4. Bene. Quindi qui vediamo Gog che invade Israele, no? Infatti c'è anche delle foto lì. Infatti l'anticristo Gog non avrà intenzione né desiderio di invadere Israele. Il motivo è che Gog sa bene che lo aspetta Armageddon in Israele e dopo Armageddon sa bene che lo aspetta il lago di fuoco. Quindi il Signore lo obbligherà a Gog ad andare in Israele. Quindi Israele sarà invaso e quindi per volontà di Dio, Israele sarà invaso, ripeto, per volontà di Dio, non per volontà del diavolo. La tribulazione viene per volontà di Dio, il diavolo un po' svegliarsi la mattina e dice se voglio tribulare alla chiesa tre anni e mezzo e il Signore va a dormire in cielo. No caro, è il Signore che manda la tribulazione, il tribulum e userà questo strumento anticristo come usò la Siria, Babilonia per tribulare, distruggere, punire Israele che divenne schiava in Persia, in Babilonia e poi Persia. Quindi Israele sarà invaso per volontà di Dio, non del diavolo. Sarà il purgamento, la mondatura finale di Dio per purgare una chiesa in apostasia che vediamo oggi nel mondo. Una chiesa apostata che si illude, che è così spirituale, che Dio vuole solo benedirla. No, prima di benedirla Dio la dovrà mondare, ripulire e questo sarà, a volte sai, se tu prendi una rapa, una rapa, prendi un modo per pulire la rapa e poi grattugiare tutto l'intorno. Se hai un frutto, una verdura, a volte lo grattugi come la carota, lo grattugi tutto intorno, ecco che la carota è pura, la sciacqua. E così il Signore grattuggerà nel tribulum la chiesa, così quello che rimane è puro. La tribolazione serve per pulire la chiesa dalle scorie, dall'immondizia religiosa. La religione è immondizia, Dio non ha creato la religione. La religione è quella che ha fatto crocifiggere Gesù. Però nello stesso tempo abbiamo studiato che la tribolazione è l'ira del diavolo contro la chiesa, contro i cristiani. Quindi è il diavolo che sta tribulando, che sta perseguitando i cristiani. Sì, però Dio lo usa. Dio userà il diavolo, l'anticristo, così come usò Babilonia e usò Arassilia per distruggere Israele. Certo che è il diavolo, va bene, però Dio usa a volte una nazione malvagia come l'America per combattere e vincere una nazione più malvagia, per esempio il nazismo. Sì, sì, sì. Va bene. Allora la tribolazione è lo strumento di Dio, il tribulum per separare il buongrano di Dio, la zizzania del diavolo, veramente logico. Infatti a volte Dio stesso manda le sue tribolazioni per purificare il suo popolo. O Apocalisse capitolo 2, Luca 13 e secondo te sono i Ciesi 2, che c'è qualche scrittura lì. Allora Apocalisse 2 ce l'hai? 22. Sì. Cos'è che stiamo leggendo? Che Dio manda lui stesso le tribolazioni per purificare il suo popolo, non si illuda la Chiesa di Laodicea che Dio perché amore gli perdonerà le cose per cui lei non si è pentita, per cui lei è impenitente, deliberatamente sceglie di disubbidire. Il sangue di Cristo non copre la disubbidienza o le corone. Le corone ce le guadagniamo noi in Cristo e non è guadagnate dal Calvario. Il Calvario è la salvezza, punto e basta. Qui c'è un talento, la salvezza. Adesso vediamo cosa ne fai. Allora ce l'hai quel verso? Apocalisse 2, 22. Questo dimostra che è Dio che manda le tribolazioni. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore. Questa sta parlando di Jezebel. E metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Apocalisse 2, 22. Attenzione, questo è il Nuovo Testamento. Non mi venite a dire che siamo sotto la grazia. Che adesso arriveranno dei falsi profeti. Siamo sotto la grazia, anzi la supergrazia. No, tu sei sotto il bastone, quale supergrazia? Svegliarsi per cortesia. Se queste chiese fossero sotto la grazia, non si limiterebbero a fare soldi e soldoni. Ma avrebbero già vinto il loro mondo, il loro città, la loro regione a Cristo. E adesso a Palazzo Madama e a Montecitorio, e lì avremmo dei politici cristiani, almeno abbastanza in numero, da dare un po' di sapore a questa zona. Quindi lui dice che c'era una donna, Jezebel, in questa chiesa di Tiatira, che era, non si capisce bene se era una prostituta o così c'era, quello che era. E dice, io la metto in grande tribolazione, Dio la mette a lei in tribolazione, non dice il diavolo la mette. Io, Dio, la metto in tribolazione. Cioè una punizione? Punizione. Va bene? E quelli che fanno adulterio con lei, non si capisce bene se è solo fisico o spirituale qui. Non si capisce se una donna andava letto con tutti, o se era uno spirito del diavolo che possedeva le persone in questa chiesa. E quelli che commettono adulterio fisico o spirituale, fate voi. Se non si ravvedono dalle opere che ella compie, io la metto in tribolazione. Io la metterò in tribolazione. E se non si ravvedono, poi lì dice, ucciderò io la... I suoi figli dice, lo ucciderò con la morte, dice, un po' con le sue due, ventidue, lì. Andiamo a Luca 13,3. Luca 13,3. No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Capito? Luca 13,3. Va bene, e se la torre di Siloe? Dice, ah, guarda, la torre di Siloe, il Pilato ha ucciso. Gesù dice, non è che le ha carezzate molto il gattino per il verso giusto. Ehi, è caduta la torre, sono morti. Ma se non vi ravvedete, morirete anche voi. Non state qui a lamentare, perché Dio lo permette. Dio permette quello e lo permetterà anche contro di voi, se non vi ravvedete. Quindi è Dio che mette in tribolazione. È Dio che manda la morte, quelli che non vogliono ravvedersi. Luca 13,3. Ora, voi sapete ciò che lo trattiene, finché sia manifestato a suo tempo. Cioè, chi trattiene l'anticristo ancora non è spuntato. Perché non è spuntato? C'è qualcuno che lo trattiene. Infatti, il mistero dell'empietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2,6-8. Va bene, cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che lo Spirito Santo sta trattenendo l'anticristo, la fiumana, la monnezza, la fognatura del mondo che sarà riversata nel mondo e ci sarà caos totale. Le fratelli hanno ricevuto visioni profetiche, sogni, che andavano di casa in casa, delle bande, sfondavano le porte, violentavano le donne e poi le uccidevano. Sta avvenendo una tale emergenza che quando molti saranno lì diranno come accidenti non ho potuto ascoltare lo Spirito di Dio che mi diceva di traslocare. Guarda, hanno violentato mia moglie, l'hanno uccisa, hanno ucciso i miei figli, hanno rubato i soldi, il cibo e stanno uccidendo anche me. Questo è già avvenuto, l'Isis in Iraq, in Siria, Iraq, Siria e più che altro Siria, è già avvenuto. A fuoco le chiese cristiane, le donne, quelle belle e violentate, poi uccise, le vecchiette cacciate via, è già avvenuto. Come detto, ripeto, l'anticristo non è che vorrà andare in Israele volentieri. Va bene? E allora Dio lo obbligherà. Il punto che voglio fare è che la tribolazione, così come anche l'invasione di Israele da parte di Gog, così come adesso la Russia ha attaccato l'Ucraina, l'anticristo attaccherà Israele. Va bene? Però sarà Dio che manda Gog all'anticristo. L'anticristo non vuole andare in Israele, non ci vuole andare. Come detto, sa che lì lo aspetta Armageddon, sa come finirà Armageddon. I gruppi satanici, sai cosa dicono? Armageddon vinceremo. Che pistole di pistola. Cosa volete vincere? Credono nella Bibbia che dice Armageddon, però non ci credono che vanno al lago di fuoco. Quindi, capito? Si scelgono le ciliagine nella Bibbia. La Bibbia ora prende tutto o niente. Va bene? Allora, come sappiamo che Gog non ci vuole andare in Israele, che Dio lo obbligherà? Ezechiele 38, verso 2, dice così che Dio trascinerà l'anticristo Gog, addirittura dice io ti metterò nella bocca degli uncini. A chi metti gli uncini? A una bestia. Ma Gog, qual è il... Gog alias di cosa? L'anticristo. Bestia. Bestia, sì. L'epocalisse 13 è chiamata la bestia. A una bestia gli metti gli uncini. Il Signore andrà lì con gli uncini. Nella foto che ho messo sulla radio, li vedi gli uncini lì? Se la foto è andato prima. Sì, sì, sì. Ho messo due uncini. Non ti possono sfuggire. Sì. E questi rappresentano gli uncini, va bene? Che il Signore metterà nella bocca di Gog la bestia, il bestione, l'anticristo, il diavolo, perché? Per trascinarlo in Israele che non ci vuole venire. Perché? Perché lì lo sa che dopo di quello è il lago di fuoco, non ci vuole andare. Testardo, un mulo. E allora uncino in bocca e lo tira. Adesso lo leggeremo in Ezechiele 38. Vedi sotto i soldati che galoppano con le spade lì a combattere? Sì. Quello rappresenta i cararmati, gli aerei, rappresentano gli armamenti dell'anticristo che invaderanno in Israele. Allora, torniamo a Ezechiele 38? Sì. Allora, dove è Ezechiele 38? Verso 2. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Messek e di Tubal. Profetizza contro di lui. Capito? Rivolgi la faccia verso Gog, anticristo, paese di Magog, Russia, principe sovrano di Messek e Tubal. Sulle cartine ho trovato questo che è sulla Georgia. Georgia, nord della Turchia, Cecenia. Però ci sono degli insegnanti biblici di profezie, ho sentito anche, che loro interpretano Messek e Mosca e Tubal e Tobolsk, una grande città russa. Può essere anche così. Questo qui dico io, non il Signore, che può essere di Mosca e Tubalsk, di questi fratelli, o può essere la Georgia, la Cecenia, Kazakhstan, quella zona lì. Come sapete, ho sempre detto, non sono dogmatico su quelle cose che nella Bibbia ci sono scritte. Però sono dogmatico, sì, che qui Dio dice che obbligherà con gli uncini a trascinare Gog e l'anticristo su Israele. Verso 4. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle macelle e ti tirerò fuori. Te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada. Ok, qui Ezechiele, e qui siamo, Ezechiele ha vissuto nel VI secolo, così era il VI secolo a.C., 500 erotti era, 550-560 a.C. dopo la seconda distruzione definitiva di Gerusalemme, Ezechiele profetizzava, diciamo, 2600 anni fa, che ha visto questo esercito che avrebbe invasi a Gesù e non poteva, diciamo, spiegare, 2500 anni fa, spiegare i carri armati, gli elicotteri, i droni, e come fa a spiegare queste cose? Scudi grandi e piccoli. E allora, questo ha usato il linguaggio di 2600 anni fa, 2500, va bene, e punto, cavalieri vestiti pomposamente, questi ufficiali, tutti, sai, con tutte le medaglie, gran moltitudine con scudi, scudi, sacra armata, è un grande scudo, grandi e piccoli forniti di spada, spada, ventragliatori, bombe, cannoncini, cannoncioni, elicotteri, capito? Cerchiamo di interpretare un pochino perché è un linguaggio di 2500 anni fa. Verso 8, salta all'8, va bene. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, esta abiterà tutta quanta al sicuro. Ok, adesso Israele abita al sicuro, perché c'è il Regio Sud che la protegge, no? Nella Bibbia sarebbe l'America, no? Protetta dall'America, chi tocca Israele? Nessuno. Gli islamici la polverizzerebbero se potessero, caspita. Proprio in questi giorni io sono dei terroristi islamici che vanno per le strade a ammazzare gente che cammina, donne, vecchi, quello che possono. Poi appena arrivano la polizia li spara, non è che li arresta, li spara direttamente. Non vogliono processi in Israele, li fanno fuori e ciao. Bene, il primo ministro israeliano ha chiesto a tutti gli abitanti di Israele, ha detto per favore, quando andate in giro per le strade tutti i civili si portano un'arma. Wow, ai ai ai. Hai capito? Quindi lì prima ti sparano e poi ti chiedono chi sei. Ma i giusti sono d'accordo, cioè tu vengono a ammazzare donne e bambini per le strade, scusa. E sì perché loro sono ebrei, meritano di morire. No, non è vero. Non è vero. Io non credo che nessuno merita di morire perché passeggiano in una strada. E ma loro hanno rubato la terra ai palestinesi? Vabbè, i palestinesi l'avranno rubato a qualcun altro. In questo mondo chi ha potere si impossessa. Com'è che l'America si è impossessata dai territori indiani, territori messicani? E come le ha ammazzate i messicani e si è preso il nord del Messico e il sud degli Stati Uniti. Un terzo degli Stati Uniti era tutto Messico, se non di più. È così che va la storia. Quello che ha il potere è così che funziona. Quindi stai tranquillo, stai tranquillo. E noi siamo in Italia, io no, sono qui in America, ma i fratelli sono in Italia. Deve sottomettersi al capobanchiere, al capobanda. Va bene? C'è un banchiere che dirige l'Italia, tutto in lockdown e lui predicando la democrazia fa dittatura, decrete ministeriali e gli italiani si sottomettono. Ma che cosa vuoi fare, scusa? In Cina un miliardo e mezzo sottomessi a un uomo, Xi Jinping, come si chiama? Un uomo, lui schiocca le dita e tu muori. E si sottomette. Ma è così che va il mondo. Gesù si è sottomesso ai Romani, si è sottomesso alle Rode. Ti sottometti, mio caro islamico. È così la storia. Israele per duemila anni si è sottomesso ai nazisti, ai comunisti, ai Romani, alla Chiesa Cattolica, all'Inquisizione, a quelli che li torturavano e uccidivano. Si è sottomesso ai duemila anni. I ebrei non hanno fatto la guerra contro la Chiesa Cattolica, contro l'Inquisizione, contro Hitler. Non hanno fatto nessuna guerra perché non potevano. Quando hanno potuto l'hanno fatta, non hanno potuto. Ci siamo. Ma così tu, tu sei palestinese sotto il regime israeliano e devi sottometterti. Sì, però Israele è crudele, malvagia. D'accordo, hai ragione. Hai ragione. Israele dovrebbe essere cristiana, andare in Palestina con un piano Marshall, e aiutare i palestinesi. Non lo fanno perché non sono cristiani e non sanno cos'è l'amore di Cristo. Nel frattempo tutti sottomettono, vengono a ammazzare la gente. Andiamo avanti. Sì, quindi abbiamo letto Ezechiele 38 e abbiamo capito che è Dio che vuole che l'anticristo invada Israele? È Dio che vuole. Come anche lui permette la tribolazione e che la Chiesa sia purgata, anche l'Armageddon, Dio lo usa per distruggere l'anticristo. Esatto. È volontà di Dio. È volontà di Dio che, sì, ma quello di Armageddon abbiamo capito tutto che è volontà di Dio, che non l'ha capito. Sì. Ma il fatto che l'invasione di Israele da parte dell'anticristo, da parte del diavolo, è volontà di Dio. Non tutti l'hanno capito. Tante Chiese che sono lì a predicare, predicatori davanti alle bandiere israeliane, poveracci, poveracci, e vanno dalla bandiera israeliana alla bandiera americana, vanno. Ma cosa accidenti è predicata davanti a queste bandiere? Israele non è cristiana, è che predichi davanti a Israele. Israele quando si convertirà saranno fratellini uguali a noi, non più altri, non maggiori di noi, uguali a noi. Punto. Salta all'otto, guarda. L'ho letto. Hai letto l'otto? Ezechiele 38, 8, ho letto, sì. Ok. Allora, cos'è che dice qua? Vado, leggio di nuovo, guarda, che io già mi sono dimenticato. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Allora, abita al sicuro e protetta dall'America, però dice, monti di Israele, tu invaderai Israele, un posto israele che sono stati per tanto tempo deserti. Infatti, dal 70 d.C., il generale Tito, il generale romano, ha distrutto Israele ed è stato distrutto fino al 1948. Quindi quasi duemila anni distrutto. Quindi, per tanto tempo, quando Dio dice tanto, è tanto. Duemila anni. È stato deserto. Però, fatta uscire dai popoli, cioè quando è uscita dalla persecuzione nazista, l'esodo dall'Europa, le navi che sbarcavano gli ebrei dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il trattato di Balfour, il ministro degli esteri britannico, che ha firmato tutto il governo britannico, ha firmato l'indipendenza per Israele. E nel 1948, da l'ora in poi, ecco che adesso sono al sicuro. Sono, diciamo, guerre contro guerre. Però, diciamo, adesso sono al sicuro perché l'America li garantisce per loro tutte le armi che hanno bisogno, aiuti finanziari. E poi c'è il club, la lobby dei sionisti, gli ebrei in tutto il mondo, che mandano soldi, questo, quell'altro. Quindi Israele è al sicuro, va bene? Però, cosa succede? Dice il verso 8, dopo molti giorni, duemila anni, tu riceverai l'ordine. Quindi Gog riceve l'ordine di Dio, Dio ordina Gog, Dio ordina il diavolo. Negli ultimi anni verrai sui monti di Israele, dove credono di essere al sicuro. E a fare cosa? Perché Dio permette questo? Perché? Leggiamolo, Ezechiele 39, 22, 24. Cercate di capirlo bene, fratelli, perché nelle chiese non le capiscono queste cose. Sono lì a dire israese, ma quale Israele? Devi, devi, devi innalzare Gesù, non Israele. Israele non può salvare Israele, Gesù la salva. Innalziamo Gesù, avanti. Ezechiele 39, 22, 24. Da quel giorno in poi, la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità. Capito? 70 dopo Cristo, Israele è deportata dai Romani, perseguitata per duemila anni. Perché? A causa della sua iniquità. Perché mi era stata infedele. Ok. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Capito? Vedi le persecuzioni naziste, le persecuzioni cattoliche, l'inquisizione cattolica. Persino Martin Lutero li perseguitava, almeno verbalmente. Li chiamava maiali, questo, quell'altro. Cioè, infatti, Israele si appoggiava alle prediche del protestante Martin Lutero. Va bene? Adesso i protestanti sono lì, davanti alle bandiere di Israele. Ma il vostro insegnante Martin Lutero li chiamava maiali. Quindi i protestanti, per cortesia, cercate di essere meno protestanti e più cristiani. Ameno. Va bene, lasciate perdere Martin Lutero che, insomma, ha fatto tante cose belle, ma, insomma, anche lui non era perfetto. 24. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni. E ho nascosto loro la mia faccia. Per duemila anni ho nascosto la faccia. Non hanno avuto un profeta. Sì, ne hanno avuto alcuni falsi. Persino falsi Messia. Ma Dio ha nascosto la faccia. E adesso Dio ha i suoi profeti, che profetizzano adesso. Speriamo di essere tra questi. Ma Israele non ci ascolta. Avanti. Ezechiele 39, 22 a 24. Domanda, no, un commento. Chi suona la campagna? Monica. Monica, avanti. Dice Monica, ha scritto adesso. In molte chiese dicono che quello che trattiene l'anticristo è la chiesa. Sì, ma ti attacchi al tram. E quindi, quando la chiesa verrà rapita, viene l'anticristo. Purtroppo non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Veramente. Non c'è peggior sordo degli autosordi. Quindi se è la chiesa che trattiene l'anticristo, visto che il mondo è pieno di politici anticristi, perché la chiesa non li trattiene? Perché è una falsità. Perché la chiesa non fa qualcosa. Ma la chiesa cosa vuoi? Che non so neanche trattenere l'acqua, perché fa acqua in tutte le parti. E la chiesa non è piena dell'apostasia, un titanico che è più affondato che galleggia. E durante la tribolazione, colpo di grazia, il titanico affonderà e sarà distrutto, e moriranno nell'affondamento del titanico chiesa. Beati quelli che per tempo hanno preso le scialuppe e hanno cominciato a remare. Ci sono scialuppe, fratelli. Vabbè, anzi, ci sono anche gli ali dell'Aquila, Apocalisse 12-14, che potete volare nel deserto. Qual è il deserto? Qualunque posto dove ci sono le religioni, tanto per cominciare. Noi abbiamo delle religioni qui dove viviamo, ci sono delle religioni qua, ci sono cattolici e protestanti. Silenzio. Noi siamo in internos. Siamo in perfetta privacy. Perché? Perché tu vai nella chiesa a evangelizzare, trovi delle pecore e trovi sempre dei lupi. Va bene. Il fatto che lo sbaglio una volta, qui in Sud America, sono andato a predicare religiosi. Persecuzione di tutti i colori. Cioè, la grande maggioranza, erano quasi tutti, 9 su 10, erano tutte pecore. 90%. Però c'era quel caprone che si sentiva che gli rubavamo la gloria. E se hanno perso a perseguire, ci hanno chiamato anticristo. Perché? Perché predicavamo la rapimento dopo. Dice, ah, voi siete anticristo, volete che la chiesa sia distrutta. Ma no! È Dio che obbligherà l'anticristo, la bestia, a tirarlo con gli uncini. E allora abbiamo perso la poesia, abbiamo perso l'ispirazione. E ho detto, arrangiatemi, sono pieno perché stiamo dando perle a quelli sbagliati. Non le pecorelle, che ogni chiesa è piena di pecorelle. Ogni chiesa è piena di pecorelle. Poi almeno quasi tutte. Sono le capre che le guidano il problema. Non tutte capre. Ci sono anche dei pastori dolcissimi che amano il Signore, però semplicemente non sanno. Va bene? Amen, amen. C'hai qualche domanda? No, facciamo una pausa, ascoltiamo un canto. E poi continuiamo a parlare delle correzioni di Dio, perché abbiamo capito che la tribolazione è una correzione di Dio per la chiesa, per insegnare lezioni alla chiesa. E parleremo di un messaggio intitolato «Il bastone di Dio è la mia salvezza». Infatti, se tutti noi, tutta la chiesa mondiale, capissimo questo messaggio, che il bastone di Dio non è perché Dio si diverte a punirci, ma è perché Dio sta cercando di salvarci, di aiutarci, per aiutarci, proteggerci. È la visione di un pastore che guida le pecore in montagna. C'ha le sue 50-100 pecore e ogni tanto qualche pecora sciocca o un gruppetto di pecore sciocche si avvicinano al dirupo. Lui va lì, fischia, chiama, niente, zucca dura. Prende il bastone e gli le dà di santa ragione. E la pecora «Ai, ai, ai, ai!» «Eh, il pastore non mi ama! Mi ha punito!» «Mi sta tribulando!» «Mi sta tribulando!» «No, ti sta salvando dall'inferno, sciocco!» Allora, avanti Angela. Ascoltiamo «Sotto l'ombra dell'ali tue mi rifugierò!» «Solo la tua preziosa presenza voglio restare le tue inaudite profondità io voglio contemplare l'unzione del tuo spirito e il tocco della tua mano il sangue di Gesù è risorto la potenza del mio Dio la potenza del mio Dio Dio il mio Dio è risorto solo la tua preziosa presenza voglio restare le tue inaudite profondità io voglio contemplare l'unzione del tuo spirito il tocco della tua mano il sangue di Gesù è risorto la potenza del mio Dio la potenza del mio Dio io mi rifugierò sotto l'ombra delle ali tue io mi rifugierò sotto l'ombra delle ali tue io mi rifugierò sotto l'ombra delle ali tue Io mi rifugierò, io mi rifugierò, io palacero proverò. Sono la tua preziosa presenza, voglio restare, le tue inaudite profondità, voglio contemplare. L'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano, il sangue di Gesù è sotto la potenza del mio Dio, la potenza del mio Dio. Sotto l'ombra delle ali tuoi mi rifugierò. 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 Mi rifugierò. Sotto l'ombra delle ali tuoi 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 mi rifugierò. Grazie a tutti.